Salve, sono Michele Nicolai e sono il vostro docente per questo approfondimento. L'approfondimento di oggi riguarda le disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE Plus 2021-2027, che sono state predisposte da parte della provincia autonoma di Bolzano, e in particolare questo focus riguarderà tutte quelle che sono le principali regole che disciplinano la gestione degli interventi. In particolare oggi vedremo quelle che sono le informazioni generali per quanto riguarda l'impostazione delle disposizioni previste dall'autorità di gestione, con una finalità di rafforzare un po' quelle che sono le conoscenze sulle principali aspetti della regolamentazione del FSE Plus per la programmazione 21-27, e fornire quindi delle conoscenze che vi consentano di implementare gli interventi, evitando criticità e quindi con maggiore linearità. Innanzitutto premetto che le disposizioni che analizzeremo oggi sono state approvate dalla provincia autonoma di Bolzano e sono disponibili sul sito web della provincia, e forniscono le principali disposizioni per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito del programma FSE Plus 2021-27 della provincia autonoma di Bolzano. E' importante sapere che i singoli avvisi, eventuali circolari, eventuali manuali operativi che saranno adottati dall'ufficio del Fondo Sociale Europeo, potranno prevedere ulteriori specifiche, potranno prevedere delle deroghe alle presenti disposizioni. Quindi attenzione che le regole che vedremo oggi, che sono quelle stabilite dalle disposizioni, non necessariamente si applicheranno magari a una singola procedura perché l'autorità di gestione può decidere, per determinate ragioni, di allargare o restringere determinate ambiti di applicazione. Le disposizioni sono strutturate essenzialmente in cinque sezioni. Una prima sezione che analizza, dà una serie di informazioni generali relative al glossario di riferimento, alle forme di sostegno, ai regimi di ammissibilità della spesa, e quindi dà un po' una panoramica rispetto all'articolazione degli interventi e le terminologie. La seconda parte affronta gli obblighi generali e le responsabilità in capo al beneficiario, quindi quali sono le principali procedure e regole che devono essere rispettate. La terza sezione invece entra nella parte di realizzazione per le prove degli interventi, quindi dando alcune informazioni su come devono essere strutturati gli interventi, quali sono le procedure che devono essere fatte per l'approvazione degli interventi finanziati e come devono essere attuati gli interventi. La parte 4 e la parte 5, che vedremo invece in un altro approfondimento, riguardano la gestione finanziaria degli interventi e, ahimè, le revoche e le sanzioni, qualora appunto gli interventi non vengono realizzati correttamente. Mi piace sempre partire in ogni caso da quello che è un focus sulla normativa di riferimento, in particolare, come sicuramente sapete, il Regolamento 2021-1060 e il Regolamento Cardine che disciplina la gestione dei fondi 21-27, il Regolamento 2021-1057 che invece disciplina il Fondo Sociale Europeo e poi il DPR 22-2018 che regolamenta l'ammissibilità della spesa in corso di approvazione una nuova versione per il 1-27, ma per il momento questa è quella vigente e poi le disposizioni di cui appunto parleremo oggi, che sono state approvate con il decreto che vedete indicati qui nella slide. Allora, vediamo quali sono alcune informazioni importanti che devono essere considerate nella progettazione e di conseguenza poi nell'attuazione degli interventi. Un primo chiarimento che viene fornito dalle disposizioni riguarda la definizione dei destinatari e dei requisiti di accesso. È chiaro che è fondamentale che il destinatario sia correttamente individuato e abbia le caratteristiche che sono quelle che sono previste e definite dall'avviso di riferimento perché sennò ovviamente, diciamo, l'intervento potrebbe essere ritenuto non ammissibile. È l'avviso pubblico che correntemente con quanto previsto dalle disposizioni e dal programma specifica quelli che sono i requisiti di accesso per i diversi interventi. Requisiti di accesso che a seconda della tipologia di intervento possono riguardare una condizione occupazionale, quindi persone disoccupate, occupate, inoccupate, eccetera, eccetera. Una provenienza geografica, ci può essere una restrizione o priorità per i soggetti residenti o domiciliati nell'area del programma, delle determinate condizioni di vulnerabilità, una situazione anagrafica di residenza o di domicilio, l'età perché molti interventi sono finalizzati a interessare, diciamo, determinate fasce di età, il genere e il titolo di studio. È importante sapere che il programma non prevede la possibilità di utilizzare degli uditori e che, una domanda viene sempre fatta, quando i requisiti devono essere posseduti? Devono essere posseduti al momento dell'avvio del percorso cui il partecipante è associato. Quindi attenzione che se voi fate una procedura e poi il tempo perché il progetto va in attuazione e non è immediato, dovete accertarvi che quei requisiti siano ancora posseduti alla fase di avvio dell'operazione. Altra cosa importante è che nel caso di interventi che richiedono determinati requisiti occupazionali, questi requisiti devono permanere tutta la durata dell'intervento. Un altro elemento importante da approfondire riguarda le sedi di svolgimento degli interventi. Le disposizioni prevedono che per determinate tipologie di intervento la sede deve essere vincolata e quindi soggetta a preventiva autorizzazione da parte della provincia, deve essere accreditata, è possibile utilizzare, se non diciamo diversamente risposto dall'avviso, delle aule occasionali che devono essere approvate con la domanda di finanziamento, quindi se io per un determinato percorso ho l'esigenza di utilizzare una determinata aula, posso farlo dando, diciamo, questo tipo di informazione nella domanda e poi possono anche essere previste delle aule in itinere che sono approvate dietro richiesta in fase di attuazione, mentre invece se la sede non è vincolata, ovviamente non è soggetta a preventiva approvazione. Altro elemento importante, come avviene la comunicazione con l'ufficio FSE? Tutte le comunicazioni ufficiali devono obbligatoriamente essere fatte attraverso il sistema informativo, il sistema Coemon, che è quello che gestisce il programma 21-27. Nel momento in cui viene fatta una comunicazione sul sistema informativo, il sistema manda una notifica all'area FSE e quindi la informa che è stata mandata una comunicazione. Solo e soltanto nel caso in cui ci sia una comprovata impossibilità di utilizzare Coemon, è possibile utilizzare la PEC e in questo caso deve essere allegato una copia della carta di entità e il documento che dimostri che comprovi il malfunzionamento del sistema. Vi ricordo che nell'oggetto delle comunicazioni deve sempre esserci il codice del progetto e che non vengono prese in considerazione delle comunicazioni che non rispettano queste indicazioni. Attenzione che laddove la comunicazione è una comunicazione che richieste una autorizzazione, la provincia riscontra le richieste entro 30 giorni dalla domanda, ma in questo caso vige la regola del silenzio di niego, il che vuol dire che se la provincia non vi risponde entro 30 giorni, la richiesta di autorizzazione è da considerarsi come non accolta. Per quanto riguarda invece le comunicazioni non ufficiali, anche queste devono avvenire sempre e soltanto tramite l'helpdesk disponibile nel sistema informativo. Altra informazione importante riguarda l'affidamento terzi. Ora, al di là delle fasce che vedete in questa slide, che sono quelle riferite al decreto legge 50 del 2016, quindi non sono state aggiornate al decreto 36 del 2023, che tanto diciamo cambiano ogni anno, o abbastanza frequentemente, la cosa importante da sapere è che bisogna comunque attenersi a determinate procedure a seconda dell'importo di affidamento a terzi, ma soprattutto l'obbligo, che lo vedremo poi quando parleremo delle sanzioni, di prevedere una rotazione nel corso di un anno solare. E su questo l'autorità di gestione effettua apposite verifiche per accertarsi appunto che sia rispettato il criterio di rotazione. Il non rispetto del criterio di rotazione prevede una serie di sanzioni apposite. Altro tema importante affrontato dalle direttive riguarda la delega. Anche qui attenzione perché laddove l'avviso lo prevede, la delega è prevista unicamente se è autorizzata in sede di approvazione del progetto. Quindi, se nel progetto avete chiesto, vi siete avvalsi della possibilità di richiedere una delega e la delega viene autorizzata, questa delega può essere usata. Viceversa, se non è stato fatto in quella fase, la delega non può essere chiesta successivamente. Per le deleghe approvate è possibile una variazione della quantificazione economica dell'attività, è possibile sostituire il soggetto delegato solo e soltanto se c'è una rinuncia scritta da parte del soggetto che era previsto come soggetto delegato e non possono essere fatte delegare delle attività e contenuti in sostituzione di moduli collegati. Attenzione che l'importo massimo delegabile è quello del 30% del preventivo approvato e l'ammesso rendiconto finale. Alcune attività, come sapete, non sono delegabili. Tra queste, diciamo, ve ne indico alcune che sono ideazione e progettazione, individuazione dei partecipanti tramite selezione, individuazione dei partecipanti tramite esame delle competenze d'ingresso. Chiedo scusa, queste sono le attività delegabili, che sono delegabili. Leborazione di materiali didattici, docenza, codocenza, tutoraggio, accompagnamento, docenza fatta in viaggio di studio e codocenza, organizzazione e gestione di viaggi, accompagnamento in occasione di visite didattiche, verifica di apprendimenti, verifica di apprendimenti tramite commissione d'esame, orientamento, supporto, accompagnamento al lavoro, sostegno socio-pedagogico e consulenza e assistenza. Ma attenzione, invece, che alcune attività non sono delegabili e queste sono l'attività di direzione, coordinamento, segreteria e amministrazione, monitoraggio e valutazione e attività seminariali e di workshop. Queste attività non sono delegabili e, inoltre, per gli enti accreditati non è possibile delegare la progettazione, il tutoraggio, il monitoraggio e la valutazione e la verifica degli apprendimenti tramite commissione di valutazione, nonché la verifica degli apprendimenti tramite commissione d'esame e non è possibile delegare ad altri enti accreditati fatta eccezione per docenze specialistiche, quindi delle docenze che richiedono un'abilitazione o un accreditamento rispetto al quale il soggetto terzo ha l'esclusività, ad esempio quella tipica delle lingue. Altra specifica importante riguarda i soggetti non indipendenti. laddove ci siano dei soggetti non indipendenti definiti come soggetti legati da partnership, contratto di consorsi, gruppi di impresa, imprese collegate e controllate, quelle quindi che hanno un vincolo di collegamento legato alla maggioranza dei voti del CDA, il beneficiario e i soggetti, rispetto a lui non indipendenti, sono considerati come uniche entità e quindi il beneficiario non può ricorrere a procedure di affidamento a terzi o a delega nei confronti di questi soggetti e non può incaricare direttamente per lo svelicimento di attività all'interno di un intervento persone rispetto a lui non indipendenti. I soggetti non indipendenti possono essere utilizzati unicamente come partner. Altra informazione importante riguarda i tempi di attuazione. Gli avvisi stabiliscono chiaramente delle tempistiche e attenzione perché il non rispetto di queste tempistiche determina sanzioni che in alcuni casi possono arrivare anche alla revoca del progetto. La durata, durata massima degli interventi in termini di ore, di attività, di giorni, di mesi disponibili per l'attuazione. L'avvio, i termini per avviare l'attività. È obbligatorio avviare l'attività nel rispetto della tempistica prevista. Così come i termini per la conclusione. E altra cosa, attenzione, che l'avviso chiarisce quelli che sono i tipi di proroghe che sono concedibili e se le proroghe sono concedibili rispetto a quella procedura. Quindi laddove la proroga non fosse concedibile ovviamente non è possibile richiederla. Gli avvisi in particolare infatti stabiliscono gli interventi senza proroghe concedibili, gli interventi con proroghe che sono vincolate in termini con singoli limiti, mentre invece gli interventi con proroghe a pacchetto, cioè termini con monte ore massimo che possono essere prorogate, i termini prorogabili normalmente riguardano l'avvio dell'attività, la chiusura dell'attività, l'esplettamento degli adempimenti post chiusura e la consegna del rendiconto finale e attenzione perché la richiesta di proroga deve essere fatta entro cinque giorni lavorativi precedenti alla scadenza prevista e deve essere autorizzata. Quindi, ricordo, silenzio e diniego, se non ricevete un'autorizzazione la proroga è considerata come non accoglibile. Ultimo aspetto che affronteremo in questo approfondimento riguarda la tipologia di attività progettuali che sono disciplinate nel nuovo programma FS Plus 2127 che prevede delle attività che sono rivolte direttamente destinatari, formazione in aula e laboratorio, formazione individualizzata, formazione a distanza di gruppo individuale, formazione mista in presenza a distanza, formazione in webinar, stage, orientamento di gruppo individuale, accompagnamento al lavoro, accompagnamento sul lavoro, supporto personale e formativo, viaggi di studio, visite didattiche, testimonianze, sostegno sociopedagogico, consulenza e assistenza e verifica degli apprendimenti tramite commissione esame. Ci sono poi degli interventi che sono rivolti indirettamente ai destinatari, monitoraggio e valutazione, seminari e workshop. Vedremo poi più avanti che è importante questa distinzione perché a seconda che gli interventi siano rivolti direttamente ai destinatari o meno, ci sono degli obblighi di comunicazione che variano. Le categorie di interventi previsti sono formazione, non vi sto a leggere il dettaglio, lo troverete nella slide, lo stage, l'orientamento, l'accompagnamento, la verifica degli apprendimenti, il viaggio, il supporto, lo sostegno, le attività di monitoraggio e le attività di diffusione che prevede seminari e workshop. Infine abbiamo attività di gruppo, attività di gruppo o individuale, quindi attività che possono essere fatte sia a livello di gruppo o a livello individuale, attività individuali e attività di gruppo con determinati vincoli, quindi ad esempio vedete la presenza almeno di due partecipanti e diciamo altre adempimenti che devono essere rispettati. Con questo abbiamo concluso questo primo approfondimento che voleva chiarire quelli che sono una serie di definizioni e adempimenti preliminari che devono essere rispettati in fase di avvio degli interventi. Con i prossimi approfondimenti andremo ad analizzare quelli che sono gli aspetti legati all'attuazione e alla realizzazione degli interventi. Grazie.